Ciao creatura, io sono Ecate Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai ASMR. Questa sera ti porto una collaborazione con un sito che mi ha contattata proponendomi un budget piccolino con la quale potevo scegliere dentro questo budget alcuni prodotti che loro vendono. E io appena ho visto il sito e ho spirciato, l'ho spulciato per bene per vedere che cosa proponivano, ho accettato perché dobbiamo vedere come sono queste cose insieme. Quindi mi sono offerta volontaria come cavia per vedere appunto i prodotti che vendono e ti mostro brevemente il sito e ti faccio vedere insomma che cosa si può trovare. Chi mi segue su Instagram sa già cosa ho scelto e non vedo l'ora di aprirlo insieme a te creatura per vedere appunto insieme se è davvero così. Insomma questo è il sito si chiama New Craft Day, ti mostro qualche cosina, adesso hanno tutte le cose tema Pasqua giustamente, hanno anche questi Free Stick Do It Yourself Diamond Craft, hanno sia creazioni in diamanti, diamanti quelli 3D, hanno tante di queste principesse, oppure hanno anche la pittura quella con i numeri Paint by Number e anche il punto cruce, però il punto cruce io appunto non lo so fare. Allora sono divise per categorie, sono anche il sito in italiano volendo, ci sono i prezzi anche in euro volendo appunto. e non trovando magari nelle categorie ecco che ti propongono, anche se guarda, ci sono le cose delle bamboline gotiche qua, anzi elfo, elfo ragazza, che belle, mamma mia, molto carine, varie principesse, varie cose, però quello che preferisco io è scrivere, non so se ho film, diamo movie, diamo movie per esempio. e ci dà un sacco di Harry Potter, questo è quello che ho comprato io, ho preso io movie, questa Paint by Number, guardalo. e Harry Potter ce n'è un sacco, è Sailor Moon, punto cruce, punto cruce ce ne sono tanti anche di Harry Potter, ma appunto io non lo so fare, quindi niente. guarda questo punto cruce, è versione stile Van Gogh, però è Doctor Who, se non sbaglio, wow. e questo è poi Disney, anche questo è tante cose, sì, però sempre punto cruce, Pokemon. eh, se sai fare punto cruce, ce n'è un'infinità, però in realtà non c'è anche solo quello, c'è tanto anche di, adesso non so perché mi sono usciti tutti, però questo è pittura diamante, per esempio, con questo cibi, bambola horror, che in realtà non è una bambola, perché è venerdì 13, però vabbè, molto cibi, ah, poi questo mi era piaciuto tantissimo, però ora ho appunto cruce, che è Harry Potter, versione, diciamo, Tim Burton, e Jack Skeleton, che belle queste fusioni, mi piacciono così tanto. io ho scelto appunto questo qui, che è a pittura diamante, poi vediamo come è, aspettative versus realtà, questa qui è l'aspettativa, ok? viene, sto già ridendo, ho preso questo, Diamond Painting, guarda un po', così dovrebbe venire con tutti i diamantini, quindi, wow. e poi ho preso, che ci sono, ci sono un sacco di Hocus Pocus, che quelle chiamano Witches, o Crazy Witches, streghe pasta, me l'ho tradotto adesso, e c'era questa di Diamond Painting, io ho scelto questa perché, già, il fatto stesso che abbiano Hocus Pocus come Diamond Painting, è una cosa, wow per me, in più che ci sia tutto questo disegno da fare, lo trovo inconcepibile per, la, eh, 40 per 50 centimetri, ma, la vedrò, la vedrei dura, vedremo come sarà tutto questo, con i diamantini, secondo me, ho preteso troppo, chissà, se ci fosse stato da dipingere, l'avrei preso anche da dipingere, però non c'è, c'è solo quei diamantini, vedremo, e poi ho preso un contenitore per i diamantini, anche visto che avanzano a qualche dollaro, l'ho preso, perché, appunto, qui abbiamo, appunto, i croce, qui abbiamo gli utensili, gli strumenti, vedi, eh, più venduti, pittura di amante, punto croce, poi c'è solo pittura di amante, oppure puoi guardare, guarda, pittura di amante, e adesso hanno tutte le robe, wow, guarda questa, tutte le cose pasquali, oppure qua, Disney, le cose un po' così vintage, calcola che ne ho già uno, di Alice, con lo stregatto, e uno già con Jack Skeleton, volevo sempre comprare le solite cose, no? volevo prendere qualcosa di diverso, ce ne sono più di 137 pagine, quindi, wow, ne hai qua da guardare, un'infinità, andiamo a vedere insieme se effettivamente aspettative versus realtà coincidono, dico già che arrivano impallate in un sacchetto, in una scatola, ma c'era tutta una spiegazione che mi hanno fatto via mail, non ce la so dire, comunque sono impallati bene, non si rovinano, ah sì, da quello che dicono loro è meglio l'impallaggio così che quello in scatola, in cui come puoi vedere sono all'interno di sacchettini imbottiti, quindi sono protetti, sono comunque cose che l'importante è che probabilmente non si bagnino, poi per il resto si può anche sedere sopra, non succede nulla, pittura numerica, e questo è quello che ho scelto io, l'avrò scelto solo in fondo, ho stato in fondo in un magazzino probabilmente, perché vedo che tanti scelgono i paesaggi, non so, gli animaletti, ho scelto quello lì del Signore degli Anelli, top, poi siccome avanzavano tipo 3 dollari, così ho detto, vogliamo lasciarli lì, allora ho comprato anche un contenitore, che questi vanno bene sia per le perline, anche per i gioielli, sacchettino a pluribolla, pensavo non esistessero più, invece, eccoli qua, uno di questi contenitori qui di plastica, con tutte caselline nella quale puoi metterci cosine piccole, che magari puoi perdere, tipo, questi sarebbero più per i diamantini, però alla fin fine uno lo utilizza come preferisce, ecco, c'è nessuno di là viene da dirti, e no, era per i diamantini, tra l'altro in quel sito c'era anche la punta e croce, ma io non lo so fare, e non penso che mi possa rilassare come cosa, perché non sapendola fare, mi viene nervoso, perché non riesco a farla, ecco, poche parole, e quindi non è rilassante per me, è frustrante, però appiccicare delle cose, se io colorare mi rilassa, quello sono sicura, e quindi perfetto per me, è perfetto per te, creatura, anche perché tutto ciò che vedrai oggi, poi lo vedrai realizzare in un video, ognuno avrà un video dedicato, perché mi rilasserà, ma voglio che anche tu ti rilassi, quindi sarà una cosa, un momento bello insieme di creazioni. Tra l'altro sono mini contenitori dentro, un contenitore grande, bello, ci puoi mettere anche le medicine, volendo. suono anche, ho fatto un po' crescere le unghie, non si vede, a parte le pellicine, che non riesco a non mangiarle, però un po' le ho fatte, di qua si sono rotte quasi tutte, di qua invece sto riuscendo a tenerle per adesso, e mi è rimasta la colla, che avevo messo delle unghie finte, un giorno, poi non ci ho fatto neanche il video. Vuole la tortura fuori, non so se la senti. Ok, andiamo alla parte interessante del video, questo è quello di Augustbox, quello di cui ho più curiosità, anche perché è piccolissimo. Sono contenta che sia piccolo perché ci perdono la vista e quindi più è piccolo, più lavoro in tempi brevi, ok? Perché non so se hai visto i video, quelli forse erano nel canale del Cate Splendente, o ne ho realizzati due giganti e ci ho messo una vita per farli, finirli. Invece più sono piccoli, più posso farci un video anche, che non venga troppo lungo e noioso. Ma quanto piccoli sono i numeri? Allora, non so se lo sai, apro un altro parentesi. Io non ci vedo più tanto bene con la vista, sono andata a fare la vista opulistica finalmente, e non mi hanno detto che ho bisogno degli occhiali, anzi è una cosa che deriva dalla stanchezza, perché faccio un lavoro di occhi e non di braccia, come mi ha detto il medico, e quindi devo prendere degli integratori, devo prenderli per sei mesi, dopo questa dovrò prenderla per... no, non ho perso. Allora, dal disegno, con i numerini, le lettere, non si capisce nulla. Dobbiamo vedere in fase di creazione se si capisce qual è il disegno, ma io sono troppo curiosa di farlo vedere se si capisce qualcosa, se saranno delle macchie in forme. Secondo me, non lo so, ho un presentimento, non ho troppo... Allora, forse viene che si riconosce, cioè, mamma mia, tanta roba. Ok, poi ovviamente insieme a quello ci sono tutti gli attrezzini e i diamantini per realizzarlo, sono veramente microscopici, wow, wow, mi aspettano dei pomeriggi veramente di relax, di perdita delle diottrie. Apriamo questo che dovrebbe essere quello di One Piece, c'è un rumore brutto fuori. Ok, questo già è molto più bello, tra virgolette è bello, anche quello ma essendo piccolo i dettagli si perdono. Che carino qui ho avuto il vassoietto verde, mi piace molto di più che bianco, vabbè è un piccolo dettaglio. Qui ci sono tutti i diamantini, anche qua, molto piccoli, questi sono tonti, a differenza di quello di Hocus Pocus che li aveva quadrati. Bellissimo quello di One Piece, è bello, secondo me viene bellissimo. Che bello, c'è pure Zoro con la sfumatura dei cappelli verdi, c'è bellissimo, guarda, questo deve essere troppo top, dobbiamo farlo insieme anche questo. Ero curiosa di vedere così piccolo, con tutti quei dettagli, che cacchio venisse fuori, secondo me sono solo delle macchie strane. Da là sotto, cosa ne pensi, creatura? Fammelo sapere nei commenti prima che iniziamo a farlo così. Vediamo chi ci azzecca. Ultimo, che ho tenuto per ultimo, la tela. Dovrebbe essere una specie di tela, non credo che ti ho mostrato, con tutti i numerini da colorare. E' proprio una tela. Odora un po' di colla vinilica, ma credo che sia stata messa per rendere la tela più resistente. Vediamo, vediamo. Wow, questo sarà un delirio farlo, ma è bellissimo. Si capisce già dal... adesso ti faccio vedere, si capisce già dal... dei numerini, che sarà un delirio, perché sono tanti i numerini piccolini, vicini, da dipingere. Ma il disegno si capisce. Che dire, creaturine e creaturini. Cioè, secondo me, questo viene una roba pazzesca, cioè bellissimo. Nell'info box, nella descrizione del video, vi lascio dei link, voi cliccate come se non ci fossero domani. E poi, soprattutto, date una sbirciata, che così se volete vedere qualcosa, no? Che magari dite, ah, ecco, ti provoca a prendere quello, o quell'altro, per vedere, appunto, se ne vale la pena. Perché se dopo ne vale la pena, io ti dico che adora prendilo. Perché trovo bello. Questo io l'avrei preso anche, comprato io, quando appena l'ho visto, detto no. Allora, se non ci sta nel budget, lo voglio, lo stesso. Cioè, capito? Tipo, me lo compro lo stesso. Allora, l'ho messo lì sul letto. Che è troppo bello, non vedo l'ora. Ma, soprattutto, la cosa che mi preme di più sapere è con quale inizio creatura proviamo, eh, proviamo, creiamo insieme. Quello di August Box, quello di One Piece, o quello lì di Il Signore degli Anelli. Comunque, mi sono arrivati insieme tutti i colorini numerati. Ogni colore ha un numero che corrisponde, appunto. Vabbè, non c'è bisogno che te lo spiega. L'unica cosa è che non c'è il pennello. Pensavo di solo anche il pennello. Andiamo. Non ci credo. Mi ho dato ben tre pennelli, uno così, non so se li vedi, due molto sottili, giustamente perché ci sono delle parti veramente microscopiche. E poi c'è anche, ci sono due viti, oppure due cancetti, quelli per appendere i poster. Non me l'aspettavo che ci fosse, cioè già non pensavo ci fossero i pennelli. Poi, oltre anche quelle per attaccare tipo poster, non me l'aspettavo. Comunque dovrò metterlo sotto un peso, tipo di libri. Ho delle vecchie inciclopidie, ci metterò quelle sopra così lo stendiamo bene. E così una volta che inizio a pitturare ce l'ho messo bene. E lo pitturiamo insieme. Però appunto, allora, se tu non scegli, cioè se farò magari un sondaggio su Instagram, ti lascio, mi trovi con il nome H.Splendente su Instagram. Farò magari un sondaggio dove ci diamo, perché puoi scriverlo qua, ma magari tante volte ti addormenti e non commenti. E quindi, decidiamo con quale iniziare. Se nessuno decide, deciderò io. E quindi io penso che inizierò dal più piccolo al più grande. Quindi inizierò con, se nessuno sceglie, con quello di Hocus Pocus. Poi farò quello di One Piece. E per ultimo inizierò il pezzo forte della pittura, che sarà credo la parte più bella, rilassante. Anche se sono tantissimo curiosa di provare, di fare, di vedere com'è il risultato finale di Hocus Pocus. E voglio finire sul, voglio fare assolutamente quello di One Piece, perché mi sembra una ficata. Troppo bello. Belli. Oh, vedi, quando io accetto una collaborazione è perché so di base che è una ficata. E quindi, mi raccomando, clicca, oppure se devi fare qualche regalo a qualcuno, compra. Ti lascio dei codici sconti, costai qualcosa, non so, non mi ricordo. Comunque trovi tutto scritto nell'info box. E ovviamente dacci una spolciata nel sito per vedere appunto cos'altro. Magari mi danno un'altra collaborazione, cosa potrei scegliere. Io vorrei qualcosa sempre da dipingere in, se trovo qualche gatto simile a Sam, perché mi piacerebbe attaccarlo tipo sulla porta di casa, come è entrata, no? Che è in trecia questo gatto. Come a dire, attenzione, c'è un gatto ciccione. E poi mi piacerebbe qualcos'altro a tema, sempre con questa fusione di stili, tipo serie tv e pittori famosi. Mi piace molto come mix. Fammi sapere quale di queste cose ti è piaciuta di più e quelle ti piacerebbe avere. Lasciami un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina per restare sempre aggiornata, creatura. Così non ti perderai le nuove collaborazioni. Sta arrivando anche un'altra. Un video che ho fatto con Sam, spoiler. e poi soprattutto anche i video dove realizzo queste cose, perché insomma, dobbiamo vedere se sono valide, ovviamente. Ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao creatura!